Come risolvere così i problemi riguardo alla connessione su FIFA 25? Ovviamente se state riscontrando problemi che vi fa uscire dalla partita per un errore matchmaking oppure che la vostra connessione non funziona su FIFA 25 è possibile ripristinare la propria connessione e provare di nuovo a giocare a FIFA. Quindi in questo caso in descrizione vi ho lasciato così dei comandi da inserire direttamente sul CMD così facendo andrà ad arrestare il servizio della connessione a riattivarla e poi fare una pulizia delle cache sui server DNS della propria rete. Quindi in questo caso andiamo un attimo sul CMD come primo metodo andiamo sul CMD prompt dei comandi esegui come amministratore. Una volta fatto diventare sul primo comando da inserire ovviamente questo andrà a disconnettere la rete e per riconnettere la rete devi inserire il secondo comando e facciamo invio. Come puoi vedere si è disconnesto così la rete e ora inseriamo il secondo comando per riconnetterla. Configurazione IP di Windows Si è connesso la nostra rete e ora facciamo una pulizia delle cache sul DNS. Cache delle resolve DNS svuotata. Una volta fatto puoi direttamente scrivere exit e chiudi l'applicazione qua del CMD. Una volta fatto andiamo direttamente su impostazioni rete e internet, impostazioni di rete avanzate. Io che non ho mai problemi riguardo alla rete uso sempre un cavo Ethernet che è molto meglio della Wi-Fi. Quindi in questo caso come puoi vedere ho disabilitato la rete Wi-Fi e ho messo il cavo Ethernet. Quindi vado direttamente su altre opzioni, se vai su altre opzioni scheda, modifica IPv4. Qui puoi utilizzare i seguenti indirizzi server DNS. Ovviamente quello che vi posso consigliare è il server DNS del Cloud Flare che è anche buono. Quindi schiacciando 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Inseriamo come DNS preferito e poi alternativo. E facciamo ok. Ok, se non dovesse bastare puoi semplicemente andare su ripristino della rete, ripristini direttamente la tua connessione. Ovviamente se usi Wi-Fi devi aggiungere di nuovo la tua password, se usi invece un cavo Ethernet non ti basta che connettere la tua rete con il cavo. Quindi puoi anche scollegare il cavo e riconnetterlo. Ripristini e riavvia il computer. Se non dovesse funzionare, tasto destro su Start, fai su Gestione, Dispositivi. Andiamo così sulla nostra rete. Questa è la scheda di rete che uso per la Wi-Fi e questo invece è il cavo Ethernet. Quindi tasto destro su, fai sul mio cavo Ethernet, faccio aggiornare driver. Cerco driver nel computer, scegli da un link di driver disponibili. Se rischio il primo, faccio avanti. Installa così i driver sul mio sistema. Stessa cosa lo fai anche con una scheda di rete Wi-Fi. Se invece hai un portatile, sembra una scheda di rete da dentro al computer, tasto destro sopra, aggiorna driver. Se no puoi direttamente disabilitare e abilitare il dispositivo. Se non dovesse funzionare, possiamo andare direttamente su nostro antivirus. Ovviamente il mio antivirus è controllato da Avast Premium Security. Quindi in questo caso vado direttamente su Avast, qua sopra. Apro direttamente il firewall e vado sulle applicazioni. In questo caso anche l'antivirus può bloccare l'applicazione di FIFA. Quindi su Windows Defender Io non posso farti vedere nulla perché è controllata l'applicazione qua. Quindi proprio qua c'è la sicurezza del firewall. Ci clicchi sopra e poi c'è scritto gestisci app tramite firewall. Così facendo devi aggiungere l'applicazione di FIFA. Tipo adesso ti faccio vedere come è la stessa cosa su Avast. Altro faccio consenti nuova applicazione. Vado direttamente nella cartella di FIFA. Vado nel desk. Dopendo la cartella è il gioco FC25.exe. Lo apro e lo inserisco qua dentro. Lo inserisci direttamente nel file della rete. Così facendo l'antivirus non darà più fastidio all'applicazione o alla cartella di FIFA. Se non dovesse bastare possiamo andare direttamente sul CMD di nuovo, prompt dei comandi e fare esegui come amministratore. Andiamo così a scrivere sfc spazio slash scanno e facciamo così un avvio in costa dell'analisi del sistema. E aspetti così che finisce l'analisi per vedere se ci sono problemi che il computer riscontra. Se non ci sono problemi puoi chiudere semplicemente il CMD e basta. Se no andiamo direttamente su risoluzioni, problemi, impostazioni, risoluzioni, problemi, altri strumenti di risoluzioni, problemi. Ed ecco qua a rete e internet. E facciamo i segui e vediamo qual è il problema che riscontra così il nostro computer. Quindi se hai connesso a internet non sono stati rilevati problemi con la rete. Quindi controlla sempre la connessione del cavo a ethernet. Riavvia il modem, il router o il commutatore. Riavvia il computer. Tutti i consigli che ti dà il supporto. Esci dal test di rete. Sennò riprova sempre ad avviare il gioco oppure reinstalla FIFA. E continua sempre ad avviarlo e vedere se nelle partite si disconnette oppure che non funzionano alcuni match. Oppure mi hanno anche segnalato che hanno problemi nelle partite rivals e problemi nel negozio. Che non si apre e non fa niente. Quindi il servizio è offline. Può essere che anche Electronic Arts sta aggiustando il suo FIFA che ha rilasciato. Ed è pieno di difetti. Quindi c'è anche una playlist in alto a destra. Quindi pieno di tutorial su DirectX. Schermo nero, controller che non funziona, problemi al crash e che non si avvia. Quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.